Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre se l'ho dato, cari fratelli e sorelle, voglio insieme con voi parlare oggi di un tema molto importante, forse fuori moda, ossia sul tema della lussuria, dove appunto viene annesso anche il peccato dell'impurità. Noi conosciamo la beatitudine della purezza proclamata da Gesù, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Conosciamo anche i due comandamenti di Dio riguardo proprio all'impurità, il sesto e nono comandamento. Conosciamo anche l'arcomandazione più che energica di San Paolo ai cristiani, quando dice appunto che la fornicazione e l'impurità di ogni specie non siano neppure nominate tra voi, ma lo stesso valga per la volgarità, gli insulsagini e i discorsi traviati, tutte queste cose indicenti. Conosciamo l'insegnamento nobilissimo del Catechismo, la Chiesa Cattolica, l'Umane Vite. Il sesto comandamento ci ordina, dice di essere santi nel corpo, portando il massimo rispetto alla propria tua persona come opere di Dio e templi dove egli abita con la sua presenza e con la sua grazia. Quindi conosciamo tante queste indicazioni luminose per battere l'istituzione del mondo e della carne. Eppure l'umanità e anche la cristianità non fa che scivolare di continuo verso forme di costume sempre più degradanti da un uomo animale che non comprende più ciò che è spirito. L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono, dice il Salmo. Per cui dobbiamo affrontare questo tema che è un tema molto importante, rappresenta la sua vita spirituale perché dalla santità deriva la castità o anche viceversa, dalla castità deriva la santità. Diceva giustamente un grande esorcista, Don Attilo Ghesogolo, diceva che castità perfetta, perfetta santità. Come dicevo la lussuria è uno dei vizi capitali e quindi è un vizio. Ma prima ancora di parlare del vizio vorrei soffermarmi anche su quello che è la virtù perché si contrapone a quello che è il vizio. Le virtù o la virtù sono qualità che dispongono appunto le potenze dell'uomo ad operare rettamente, con facilità e prontezza. Sono figli e figlie la virtù e le virtù della grazia divina, cioè attraverso la grazia di Dio, quando noi siamo inseriti nel mistero di Dio, la redenzione, quando partecipiamo a questa vita nuova, della grazia di Dio, facilmente possiamo avanzare nella virtù. Viceversa, quando noi non siamo inseriti nella grazia di Dio, quando viviamo una vita normale, animale, allora è impossibile vivere le virtù cristiane. Per questo Gesù lo dice, senza di me non potete fare nulla. Quindi sono proprio i sacramenti che generano la grazia e la grazia le virtù. Le virtù si possono suddividere in vari modi, secondo il criterio che si prende a base delle divisioni. Ci sono sette virtù capitali, c'è ma strano, però ci sono sette virtù capitali, così chiamate, perché ciascuna di esse è all'origine e alla radice di varie altre e perché anche si oppongono ai cosiddetti sette vizi capitali. Quindi vicino ai sette vizi capitali abbiamo le sette virtù. Se è virtù, virtù, io li chiamo capitali. Infatti contro la superbia c'è la virtù dell'umiltà, contro l'avarizia c'è la generosità, contro la lussuria, la castità, contro l'ira, la pazienza, contro la gola, la temperanza, contro l'invidia, la carità, contro la pigrizia, la diligenza. L'umiltà, la generosità, la castità, la pazienza, la temperanza, carità e l'indiligenza sono quindi virtù all'origine di altre, come avviene in senso opposto, per i peccati che essi rispettivamente contrari, cheppure danno origine ad altri peccati. Quindi la virtù è una disposizione abituale e ferma a fare sempre il bene. Quindi ripetendo atti buoni continuamente abbiamo la virtù, come d'altronde ripetendo atticativi, viziosi, diventiamo, perdiamo nel vizio. Le virtù essa consente alla persona non soltanto di compri ratti buoni, ma di dare il meglio di sé, con tutte le proprie energie sensibili e spirituali. La persona virtuosa quindi tende verso il bene, lo ricerca, lo sceglie in azioni concrete. Le virtù umane sono abitudini ferme, disposizioni stabili e abituali dell'intelligenza e della volontà che regolano i nostri atti, guidano la nostra condotta secondo appunto la ragione e la fede. E se procurano quindi la felicità. Ecco, chi fa del bene è felice, come si dice. Le virtù morali sono quindi il frutto e i germi di atti moralmente buoni. Dispongono quindi tutte le potenzialità dell'anima ad entrare in comunione con l'amore divino. Quindi sono disposizioni abituali, in virtù appunto, come dicevo all'inizio, della grazia santificante, per cui l'uomo si eleva, si santifica, diventa sempre più conforme a colui che è la virtù. Per Antonio Masia, che è Gesù Cristo, Gesù ha portato la virtù in questo mondo. Prima di Gesù Cristo tutto il mondo era nelle tenebre, come dice appunto anche il profeta Zaccaria. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gesù è luce per illuminare le genti. Quindi, parlando appunto poi dopo di questa virtù opposta, che è appunto il vizio, il vizio è in modo particolare la lussuria, quello si oppone proprio alla purezza, che è chiamata appunto la purezza la bella virtù per eccellenza. Essa è detta anche virtù angelica, virtù sublime, compendio di ogni virtù. Il simbolo della virtù, della castità, è il giglio, fiore, candido e profumato. Infatti l'anima che possiede la purezza è come un giglio che attira sopra di sé gli occhi di Dio. Nella Sacra Scrittura, Gesù Cristo è chiamato proprio così l'agnello che si pasce tra i gigli. Prendendo egli forma umana, Dio stesso, il Verbo incarnato, voglio un corpo purissimo e l'ho preso appunto da Maria Santissima, la più pura delle creature. Quindi invece il peccato, il vizio, la lussuria, ci ricorda appunto questa degradazione dell'uomo fino a somigliare le bestie o peggio. Noi ricordiamo, lo ricordo volentieri, le visioni della Madonna di Fatima, la quale in qualche modo, dico in qualche modo, non parlò dell'inferno ma fece vedere l'inferno. E questo è molto interessante, fece vedere, perché quando noi vediamo, constatiamo, comprendiamo, palpiamo in qualche modo questa verità così dimenticata, l'inferno eterno. Voi avete visto l'inferno, dice la Madonna ai tre pastorelli, dove vanno a finire i poveri peccatori e poi dice a causa dei peccati della carne, tante, tante anime, per tre volte lo dice, tante anime, tante anime, tante anime vanno all'inferno per i peccati della carne. Quindi si tratta in tutto di un vizio al peccato impuro. Ma possiamo e dobbiamo anche chiederci che cosa intendiamo per vizio? L'abbiamo già detto prima. Gesù lo dice, se non vi convertite e non facciamo penitenza, non fate penitenza, per il rete tutto allo stesso modo. Quindi il vizio, nell'accezione più comune, il vizio è un'abitudine umana negativa che spinge l'individuo a un comportamento nocivo, normalmente ripetitivo. Il comportamento può essere legato a un atteggiamento personale dipendente dai diversi fattori o legato anche ad agenti esterni come il fumo, l'alcol, la droga, il disordine morale, fino alla corruzione poco completa. Ritornando appunto alla lussuria, va detto, la lussuria non è la semplice dedizione di piaceri sensuali, ma è anche e soprattutto frutto di pensieri cattivi. Ricordiamo in merito del mondo di Gesù Cristo, che dice chiunque guarda per desiderare ha già commesso adulterio, quindi peccato mortale. Un giorno un penitente si accusava da padre Pio, gli diceva ma vedete padre, oggi come oggi, come si fa a non pecare guardando? Padre Pio lo guardò e poi li cacciò via, gli disse via da me sciagurato, disgraziato. non sai tu che l'inferno è nato con un solo peccato di pensiero, non sai tu che l'inferno eterno, l'inferno eterno è nato con un solo peccato di pensiero. Quindi uno dei vizi che fa più strage poi in mezzo all'umanità e porta più a un inferno è proprio il peccato o il vizio della lussuria, cioè il piacere sensuale a fine se stesso. Questo vizio si suole anche chiamare di disonestà, impurità, immoralità. E Dio ci ha dato un corpo fornito di sensi e di un'anima intelligente e volitiva. Il corpo ha delle funzioni particolari stabilite dal creatore in vista di un fine ben preciso, ossia in vista della vita, della procreazione. Quindi se noi parliamo della castità di essere casti, di vivere secondo Gesù Cristo nella verginità prima del matrimonio, la motivazione principale è perché noi siamo templi di Dio, siamo Chiesa, siamo corpo mistico, abbiamo un'altra dimensione di essere. Oggi i giovani non capiscono la motivazione per cui si parla della castità ancora oggi è sempre una cosa dell'altro mondo. Infatti lo è nell'altro mondo perché dall'altro mondo Gesù Cristo è venuto per donarci questo dono. Vive nella castità, nella libertà interiore. E questa è la novità, una realtà che ci rende libera, che ci eleva, che ci santifica, che ci rende simile agli angeli. Beati pur di cuore perché vedranno Dio. Quindi la castità è possibile solo in Gesù Cristo in virtù della forza che ci viene da Dio, ci ricorda anche San Paolo allora quando fu tentato da Satana sull'impurità e Gesù cosa gli dice? Paolo ti basta la mia grazia, ti basta la mia grazia, ti basta, non ti basto io e quindi se abbiamo difficoltà prove di superare questo vizio, questa inclinazione di vivere nella temperanza perché Sant'Omaso dice che la castità fa parte della temperanza, temprare, mortificare, allora dobbiamo ricordare che senza di Lui non possiamo fare nulla. Quindi Gesù ha messo poi anche nel decalo due comandamenti riguardano proprio questa virtù. Il sesto nono comandamento, non commettere altri impuri e l'altro riguarda appunto i pensieri, non desiderare la persona e gli altri. Chiunque manca volontariamente contro questi comandamenti commette sempre peccato mortale, non ammettendo la lussuria parvità di materia. Lussuria quindi è un vizio così potente che guai a lasciarsene dominare. La schiavitù delle impure passioni infatti è la più vergognosa e la più umiliante ma è anche la più difficile a vincere è anche la più difficile a vincere perché ci troviamo in un corpo decaduto in uno stato di peccato quindi guai a noi se non facciamo penitenza quando noi non ci mortifichiamo quando noi ci lasciamo andare vogliamo vedere tutto, mangiare tutto, avere tutto evidentemente cadiamo come dice la teologia spirituale chi consente nelle cose in tutte le cose lecite finisce anche a consentire alle cose illecite davanti a questo vizio si sacrifica la propria dignità e si diventa simile alle bestie senza ragione si sacrifica la salute per cui si va a finire al manicomio oppure si va alla tomba prima del tempo questo lo vediamo si sacrifica anche il denaro la pace delle famiglie la pace del cuore e più che tutto si sacrifica l'anima riducendola un tizzone dell'inferno nel tempo di Noè il Signore punì questo brutto vizio con il diluvio universale al tempo di Abramo punì le città delle pentapoli mandando il fuoco dal cielo che incerì tutti gli abitanti se riflettiamo bene possiamo convincerci che buona parte dei mali che oggi affliggono l'umanità sono dovuti al dilagare di questo peccato della disonestà si tratta quindi di un peccato capitale un vizio capitale all'usuria ci sono purtroppo come dicevo alcuni peccati che generano il vizio perché si esprimono con frequenti cadute vengono dette quindi capitali perché sono come la madre la genitrice la sorgente di altri peccati e vizi scrive in merito San Tommaso ascoltiamolo capitale deriva dal capo e capo propriamente è quella parte dell'anima che è principio e alimento direttivo di tutto l'animale perciò in senso metaforico si denomina capo qualsiasi principio anzi si denominano capi persino gli uomini che dirigono e governano gli altri quindi vizio capitale deriva dal capo in senso metaforico dal termine capo cioè nel senso di principio e trascinatore di altri e allora vizio capitale non solo è principio di altri ma è pure la guida in qualche modo il trascinatore ecco perché san gregorio paragona i vizi capitali ai comandanti di un esercito alcuni vi aggiungono la superbia che viene definita da san tomaso la regina e inizio di ogni peccato infatti la superbia che è uno disordinato disderio di primegiare e all'inizio di ogni peccato lussurioso è soprattutto chi si lascia rapire e cullare continuamente dalla fantasia sensuale lussura quindi diventa un vizio quando il costante volgersi del pensiero al desiderio impedisce il normale svolgimento delle inconvenze quotidiane per questo la chiesa ha sempre insegnato ad impegnare la mente e i pensieri alle cose sante per questo condanna le riviste che inducano all'usturia per questo insegna la virtù del senso del pudore la lussuria è infatti legata essenzialmente alla fantasia e all'immaginazione trovando stimoli e suggestioni nei mezzi di comunicazione pensiamo a televisione romanzi riviste film internet eccetera gli stessi comportamenti tradizionalmente legati a tale vizio confermano la sua indole la sua indole propriamente culturale dice infatti Gesù chiamate di nuovo la folla dice loro ascoltatemi tutti non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo se non comprendiamo bene questo passaggio questo linguaggio rischiamo allora di fare del moralismo alla lunga inefficace e persino controproducente il cuore va custodito con ogni custodia già che è chiaro che viene combattuto in molti modi il resistere è anche necessario nel fuggire le occasioni infatti il diavolo pone le trappole delle tentazioni più spesso lì dove ci percepisce più incauti e si sforza maggiormente di vincerci lì dove sa che siamo più deboli cerchiamo quindi di fuggire di vivere secondo il dettame della ragione che poi è illuminata dalla fede nella rivelazione di Gesù Cristo che ci permette di vivere le virtù cristiane di elevarci di essere in qualche modo simili agli angeli perché se noi viviamo secondo questo mondo allora ci incombano le parole del salmista che dice che l'uomo nella prosperità non comprende è come gli animali che periscono l'uomo nella prosperità cioè quando vive nella carne solo di materia non comprende le cose dello spirito per lui esse sono folia dice San Paolo quindi cerchiamo di essere maturi e vivere una vita virtuosa secondo Dio ponendo un rimedio attraverso la fuga delle occasioni la preghiera e i sacramenti ogni peccato impuro di azione di desiderio di sguardo di pensiero di lettura è sempre un peccato mortale bisogna quindi difendersi con tutte le forze fino alla violenza e se necessario perché no come faceva San Benedetto e San Francesco di buttarsi tra le spine per spegnere l'acrocupiscenza della carne certamente non possiamo buttarci nelle spine come questi santi ma possiamo comunque mortificare innanzitutto la vista gli occhi la curiosità le occasioni infatti più comuni di peccato esigono soprattutto la mortificazione degli occhi evitare con la televisione o anche internet letture eccetera eccetera o anche la mortificazione della lingua evitare il linguaggio a doppio senso l'udito eccetera da tutto questo parlo evidentemente che la vita dell'uomo sulla terra è tutta una battaglia come diceva l'altra volta Giobbe 7.1 e che è necessario la continua vigilanza con l'aiuto di Dio preghiere sacramenti per non lasciarsi dominare dalla concupiscenza perché è umiliante ma è questa la nostra reale condizione carne e spirito sono sempre in lotta serate fra loro nelle mie membra c'è un'altra legge che muove guerra alla mia anima e mi rende schiavo delle leggi del peccato che è nelle mie mie membra dice San Paolo in Romani 7.23 quindi le nostre membra c'è questa legge del peccato per cui dobbiamo cercare di assimilare sempre più la grazia di Dio attraverso la mortificazione e la fuga per vincere questi vizi ecco vi do la bendizione del Padre del Figlio dello Spirito Santo Amen Grazie a tutti